Buongiorno a tutti, allora proseguiamo, proseguiamo con le news, dopo avervi parlato del Giovanni Belsoni, questo pioniere esploratore che ha scoperto le tombe di Ramses II, di Seti I, eccetera, eccetera, ormai 200 anni fa e passa, andiamo ad altre curiosità e notizie dello scorso agosto, come ben sapete, quella del, potevo raccontarla in qualsiasi momento, visto che sono cose storiche, sono cose storiche, quindi le potete trovare sui libri di storia, di archeologia, eccetera, 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 magari sui libri di storia un po' meno perché è più archeologia che non storia, la storia magari si occupa delle battaglie, delle guerre dei redmi carene e quant'altro e non stanno mai proprio a guardare, hanno scoperto quella cosa lì, anche se della stella di Rosetta si è sempre parlato, e la scoperta di Troia. Comunque, andiamo a queste nuove cold news, un attimino meno storiche, diciamo così, perché è la prima riguarda un bel bicione che hanno visto lo scorso agosto e se la sono fatta sotto perché era anche in una zona in cui il pitone non è proprio che prospera, quindi parleremo del pitone, poi parleremo di un attore bravo, simpatico, e non aggiungo altro, è uno degli attori di punta adesso che piace molto, si chiama Pasquale, vi dico solo che si chiama Pasquale, ha però già i suoi 60 anni, pensavo fosse più giovane, invece c'è già 60 anni, e pensate, li compirà di 61 tra un paio di mesi, più o meno, faceva copia con un altro personaggio, faceva lui, e poi adesso sta facendo, io sono Don Pasquale, ma il dovidiolo, parleremo un po' di lui, poi parleremo di miau, gatti, e alcune curiosità sui gatti, di che cosa combinano, concluderemo con una cosa un po' così, un po' simpatica, diciamo così, un rito funebre in Patagonia, in Patagonia, concludiamo con il rito funebre in Patagonia, perché hanno fatto delle scoperte, eccetera, 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 detto questo, mi fermo un attimino, e poi parleremo del serpentone, del biscione, paura, dunque, 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 siamo alla fine di agosto dello scorso anno, e ci sono queste foto scioccanti, che catturano il terrificante momento, in cui un pitone, che è scappato da qualche terrario, o che cosa, lungo ben sei metri, ha cercato di entrare in una casa attraverso una finestra aperta nella camera da letto. Il serpente, che pesa 38 chili, è stato avvistato dai vicini mentre si faceva strada attraverso un tetto prima di entrare attraverso la finestra al piano superiore. I residenti preoccupati all'interno sono poi riusciti a usare un manico di scopa per combattere l'albino pitone birmano e tirarlo fuori, prima che cadesse sul cofano di un'auto sottostante, atterrando con un tonfo potente. L'episodio scioccante sarà stato contento proprietario della macchina, che gli casca un pitone di 38 chili sulla macchina, non penso che gli abbia fatto benissimo. Comunque, l'episodio scioccante si è svolto nelle prime ore, in una fila di case a schiera a Chandler's Ford, vicino a Southampton. Quindi siamo in Inghilterra e non mi sembra che l'Inghilterra sia una terra di serpenti. C'è la terribile albione, ma non c'è il bicione, ci sono dei serpentelli anche da loro, delle viperette, visto che comunque qualche montagna c'è, ma fa anche un po' freschino, sono gli animali che amano un altro genere di caldo, ecco. Ma prima di proseguire mi fermo un attimo. Proseguiamo. Jenny Warwick, 62 anni, ha notato per la prima volta l'enorme serpente che strisciava sul tetto della casa di fronte intorno alle 5.30 del mattino. Queste le sue parole. Ho visto qualcosa sul tetto e ho pensato che dovesse essere un tubo di plastica, ma poi nella sua età essa ha iniziato a muoversi. L'ho detto a mio marito, Steven, ma lui ha detto, non essere sciocca. Ho chiesto a un vicino fuori se potevano vedere qualcosa sul tetto perché non avevo gli occhiali e non ero sicuro di vedere le cose. Ci siamo resi conto che era sicuramente un serpente e si muoveva su tutto il tetto cercando di trovare un modo per scendere. Dio marito odia i serpenti e non riusciva a lavorare abbastanza velocemente. Non è quello che vuoi vedere per prima cosa al mattino. Penso che sia molto irresponsabile lasciarlo libero. I passanti erano inorriditi dalla vista e alcuni hanno persino afferrato i loro cani per tenerli lontani. I residenti delle vicinanze hanno deciso di bussare alla porta di un vicino che era solito tenere i serpenti, pensando che potesse essere suo. La donna, che non ha voluto essere nominata, ha detto Sono stata svegliata da persone che sbattevano sulla mia porta, parlando di un serpente sulla strada. Non era mio, ma ho detto che potevano lasciarlo nel mio giardino. Comunque non sappiamo poi come è andata a finire, a parte che è caduto sulla macchina e mi sa che ci è rimasto secco, perché se cade da una casa su una macchina, se muore una persona, mi sa che anche il serpente ci rimane secco. E anche la macchina temo. Spero che sia assicurata su caduta di serpenti sul cofano e sull'auto, perché se no, mi sa che non sarà stato molto felice di vedersi la macchina spiaccicata. Comunque era albino, albino, sono meno perché teoricamente sono serpenti che spesso e volentieri li tengono in casa perché sono meno rischiore di un pitone africano, asiatico, quello che è, che è quello che ti costringe, ti stritola e poi ti mangia. Bene, 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 insomma, dal serpente che ha distrutto la macchina andiamo a parlare di questo personaggio che si chiama Pasquale. Si chiama Pasquale e di cognome fa Petrolo, ma in arte tutti lo conoscono come Lillo. La biografia, la carriera, eccedi sulla vita privata di Pasquale Lillo Petrolo, comico eccezionale e artista a 360 gradi, mentre al gigione c'è sempre il raffreddorino. Lillo, al secolo Pasquale Petrolo, è nata a Roma il 27 agosto 1962. All'età di 24 anni conosce Claudio Greg Gregori, insieme al quale nel 1992 fonda il gruppo rock demenziale Latte e i suoi derivati. Nel 1997 Lillo e Greg sono parte del gruppo fondatore delle Iene, shot e divisivo dove vi rimangono per tre anni consecutivi. Nel 2000 Lillo scrive e interpreta il mistero dell'assassino misterioso insieme a Greg. Il duo comico continuerà a lavorare insieme per diverse trasmissioni televisive, come Palcoscenico oppure il Varietà Telenauta 69. Nel 2001 sono nel cast dell'ottavo nano e l'anno successivo in quello di La carriera di Lillo è estrettamente legata a quella di Greg. I due hanno sempre lavorato insieme e continuano a farlo tutt'oggi. Da solista Lillo ha partecipato come concorrente al comedy show di Prime Video LOL, chi ride è fuori, prima edizione vinta dal comico napoletano Ciro Priello. A inizio del 2022 Lillo ha condotto insieme a Roberto Bolle e Serena Rossi Danza con me, mentre il 14 aprile 2022 insieme a Greg è uscito al cinema con gli idoli delle donne. Per quanto riguarda la sua vita privata, Lillo è abbastanza riservato e tiene molto alla privacy. Della sua compagna, Tiziana Etruschi, si sa ben poco e addirittura non si sa se i due siano sposati o semplicemente fidanzati. Al di là del dubbio, i due sono legati da diversi anni e il loro amore è rimasto intatto. Lillo, come detto in precedenza, non ha mai parlato della sua vita privata, tranne che in un'occasione, quando sia lui che Tiziana hanno avuto il covid. Lei fortunatamente non ha avuto sintomi grandi come Lillo, che ha invece accusato la polmonite bilaterale con successivo ricovero in ospedale. Per ben 20 giorni è rimasto positivo al virus, ma una volta guarita è tornato in formissima come dimostrano le sue apparizioni in tv e sul set. La notizia naturalmente è nello scorso agosto, più o meno nel periodo del suo compleanno. Bene, 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 bene. Prima di proseguire mi ristopo un attimo così mi soffio il naso e non vi estresso col mio raffreddore. Bene, 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 bene. Parliamo di Miaogatti. Qualche anno fa, quindi siamo a un anno fa e si parla di qualche anno fa, su Twitter andò di moda per qualche giorno il gioco delle scatole per ingannare i gatti. Consisteva nel tracciare per terra il profilo di un contenitore e fotografare il gatto che ci si piazzava dentro come se fosse una scatola vera, che sono una delle loro più grandi passioni, come potesti modiare chiunque abbia un biao, bicio. Oggi, a quattro anni di distanza da quel breve momento di gloria, quindi cinque anni di distanza, visto che è la notizia di agosto scorso, come dicevamo, oggi a cinque anni di distanza da quel breve momento di gloria per le scatole illusorie, l'argomento sta tornando di moda. Sarà l'anno di look down e di vita casalinga forzata, fatto sta che Gabriella A. Smith, etologa dell'Università di New York, ha deciso di organizzare uno studio di citizen science, volto proprio a verificare se davvero i gatti siano attratti dalle scatole virtuali e da quelli che si chiamano, tecnicamente, contorni illusori. I risultati sono pubblicati su Applied Animal Behavior Science. L'amore dei gatti per le scatole è cosa nota, anche se non è chiarissimo il perché di questa passione. Secondo la teoria più accreditata è perché si tratta di spazi chiusi che l'animale percepisce come protetti e separati dal resto del mondo, e dunque nascondersi dentro aiuta a ridurre lo stress. C'è anche però chi sottolinea il vantaggio pretatorio di potersi nascondere in una scatola prima di tendere un agguato. Camizza e i gatti. Camizza e i gatti. Ci sono anche parecchie prove sperimentali, la maggior parte delle quali postate su Twitter o Instagram, con una dinascalia buffa, che suggeriscono che per far felice un gatto non serve una scatola vera. Basta tracciare i contorni per terra e l'animale non noterà la differenza. Lo studio di Smith ha messo alla prova proprio questa ipotesi. L'esperimento ha coinvolto circa 500 gatti e relativi padroni, che sono stati divisi in tre gruppi. Nel primo i padroni dovevano tracciare per terra i contorni di una scatola. Nel secondo dovevano invece disegnare un'illusione ottica nota come figura di canizza, mentre al terzo gruppo, quello di controllo, è stato chiesto di usare gli elementi di una figura di canizza, ma di distribuirli per terra a caso, evitando dunque l'effetto scatola illusoria. Dei 500 gatti sottoposti all'esperimento, solo 30 sono riusciti a rispettare appieno il protocollo e a venire dunque accettati per la discussione dei risultati. Un campione ridotto rispetto alle ambizioni iniziali, ma questo è uno dei rischi del mestiere quando si fanno esperimenti su animali difficili da controllare come il miau gatto. I risultati comunque confermano quello che internet ci suggerisce da anni. Per dirle che con le parole dell'autrice dello studio, i gatti hanno dimostrato di venire influenzati dai contorni illusori e dalle figure di canizza, il che supporta la nostra ipotesi che trattano le scatole immaginarie come se fossero reali. Perché lo facciano non è chiaro, ma nello studio si legge che l'uso delle citizen science come precursore degli esperimenti di laboratorio potrebbe aiutare a colmare i buchi che abbiamo nelle nostre conoscenze sulla capacità cognitive del gatto. In altre parole, se avete un fedino preparatevi a farlo diventare una star su Twitter. È per la scienza. Quindi, se avete un gatto, giocate a segno per terra, per la felicità dei genitori, una scatola, magari usate un gesso che così poi è facile da pulire, gli disegnate un bel cortone, un bel coso bello grande, un bel quadratone, e vedete se il gatto ci sia raggomitola o meno. Ma andiamo all'ultima notizia. Ecco il particolare rito funebre dei Mapuche in Patagonia. I resti di una giovane donna sono stati scoperti sepolti in una canoa o huampo in Argentina. I ricercatori dell'Università Cattolica di Temuco dicono che la donna, soprannobinata individual 3, è stata sepolta circa 800 anni fa nella canoa che l'avrebbe aiutata nel suo viaggio verso l'aldilà. La sepoltura in un huampo, come dato all'individuo 3, è una metafora della transizione o del viaggio dell'anima morta lungo i fiumi e attraverso il mare fino alla sua dimora finale, hanno scritto i ricercatori nel loro studio. I resti sono stati trovati in un sito di scavo chiamato Niewen Antug, vicino al lago Lacar in Argentina. Spero di aver pronunciato giusto il nome del lago, o Lacar, Lacar, Lacar. Un'analisi rivela che la donna aveva tra i 17 e i 25 anni quando morì, anche se la causa della sua morte rimane poco chiara. I ricercatori hanno trovato quasi 600 pezzi di legno carbonizzato da un singolo albero di cedro cileno che circonda la donna. Le canoie di legno o huampus sono state scavate usando il fuoco, il che potrebbe spiegare perché i pezzi di legno sono stati carbonizzati. Usando l'adattazione al radiocarbonio sulle ossa, i ricercatori suggeriscono che la donna morì approssimativamente nel 1142 d.C. probabilmente era un membro della cultura Mapuche, il gruppo più numeroso di indiani in Sud America. Mentre i Mapuche sono favoriti per la loro lotta di 350 anni contro gli spagnoli, i ricercatori ritengono che la donna sia morta prima degli arrivi, appunto, dei conquistadores, quindi degli spagnoli. Quindi parliamo di circa 800-800-900 anni fa, perché nel 1242 siamo nel 2023, siamo più vicini ai 900 che dagli 800, però diciamo tra 800-900 anni prima, quindi gli spagnoli sono arrivati intorno al quindicesimo secolo, anno più, anno meno, quindicesimo barra sedicesimo magari più probabile, visto che 1492 è scoperta dell'America e poi negli anni successivi, quindi dal 1500 in poi, sono cominciate ad arrivare le navi dei conquistadores, eccetera, poi c'è stata tutta la saga dei pirati del XVII secolo, le guerre spagnolo contro gli inglesi, contro spagnoli, contro portoghesi, contro eccetera eccetera eccetera. Vabbè, lasciamo perdere le questioni storiche che è passato un po' di tempo, e me ne ricordo vagamente. E naturalmente ci vediamo alla prossima, anche con oggi, i miei biglietti ve li ho fatti, chiedo vegna se l'altro giorno non li ho fatti, ma ripeto, ho mangiato troppo, poi vi posterò anche il video, anzi adesso posterò anche uno dei video che devo mettere per le 19.30, e anche l'altro delle 16.30. Oggi, ieri purtroppo non sono riuscito a farvi il video del merendone, perché il babbacchione ha lasciato a casa il cellulare, e quindi niente video del merendone di oggi al cerichito, ma ve lo farò settimana prossima. Tanto tutte le settimane, almeno una volta alla settimana, al saltino al cerichito lo farò sempre. Detto questo, ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio, e ci vediamo alla prossima. Ciao!